Autorità spirituale, capitolo 14. Il carattere dell'autorità delegata. Benignità. La prima reazione di Mosè di fronte alla ribellione si prostrò con la faccia a terra. Non può esistere ribellione più grave di quella riportata nel capitolo 16 del libro di numeri. Il capo dei ribelli era Core, figlio di Levi, unitosi ad Atan ed Abiram, figlio di Ruben, ed appoggiati da 250 capi della radunanza. Tutti questi fecero un'assemblea ed attaccarono Mosè e Aronne con parole offensive. Verso 3. Il linguaggio ingiurioso usato da Aronne e Maria contro Mosè riportato dal capitolo 12 dello stesso libro era limitato ai due e per di più era privato, ma a cui la rivolta era un fatto collettivo e l'offensiva contro Mosè e Aronne era diretta e pubblica. Nelle particolari circostanze vogliamo chiederci qual era lo stato d'animo e l'attitudine di Mosè, come reagì Mosè alla crisi e quale fu la sua risposta ai rivoltosi. La prima reazione di Mosè fu di prostrarsi con la faccia a terra. Verso 4. Veramente questa è la disposizione ideale che ogni servitore di Dio dovrebbe cercare di possedere. Il popolo si agitava e in tanti parlavano, ma soltanto Mosè si prostrò con la faccia a terra. Eccoci di nuovo di fronte ad uno che conosce cosa vuol dire autorità. Essendo sinceramente mansueto non aveva opinioni personali, non si difese e non si irritò contro i ribelli. La prima cosa che fece fu di prostrarsi con la faccia a terra, quindi si rivolse a loro dicendo, L'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare, farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Verso 5. Non c'era bisogno di far contese. Mosè non usò di nulla in sua difesa perché sapeva che l'Eterno avrebbe fatto conoscere lui che gli apparteneva. Sarebbe meglio anche per noi lasciare a Dio il compio di distinguere. Mosè aveva faede e perciò mise ogni cosa nelle mani di Dio. Il Signore avrebbe dato il suo giudizio al mattino seguente, quando tutti sarebbero venuti a lui con l'incenso. Il linguaggio di Mosè era mansueto ma grave. Basta figli di Levi, sospirò il vecchio che conosceva bene Dio. Verso 7. Esortazione alla riabilitazione Mosè esortò a cuore con delle parole che erano intese a riabilitarlo. Sapendo la gravità della situazione ed essendo sinceramente interessato al bene dei ribelli, Mosè non solo sospirò, ma l'esortò pure dicendo Ora ascoltate, o figli di Levi, vi sembra poco che il Dio di Israele vi abbia scelti in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei Egli vi fa avvicinare a sé, te e tutti i suoi fratelli, figli di Levi Con te è pretendere anche il sacerdozio Per questo tu e tutta la gente che con te avete fatto lega contro il Signore Poiché chi è Aronne che vi mettete a murmurare contro di lui? Versetto 8 all'11 L'esortazione non è un'espressione di signoria, al contrario, esso rivela la mansuetudine Chi usa la persuasione per rispondere ad un attacco è certamente una persona mansueta mentre chi lascia gli erranti nel loro male senza cercare di riabilitarli dà prova di durezza di cuore Non voler esortare in tali circostanze significherebbe mancare d'umiltà e sarebbe perciò grande superbia Mosè vuole esortare i suoi assillatori e quindi dette a chi l'aveva oltraggiato una nottata intera di tempo per potersi ravvedere Mosè s'occupò dei rivoltosi in maniera separata Prima si prese cura di cuore e levita poi trattò con Datan ed Abiram Li mandò a chiamare ma essi si rifiutarono di presentarsi a lui indicando così chiaramente la loro intenzione di rompere con Mosè Versetto 12 Nell'azione di Mosè Mentre Dio si apprestava a dare il suo giudizio di condanna per i ribelli Mosè disse chiaramente Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose che io non le ho fatte di testa mia Versetto 28 Per quanto riguarda i propri sentimenti egli non aveva alcune intenzioni di punire i ribelli che gli si erano rivoltati Era un sincero servitore di Dio quando insisteva che questa gente non aveva peccato contro lui bensì contro il Dio nostro Impariamo a conoscere lo spirito di un uomo troviamo che in Mosè non c'era la minima idea di voler giudicare e che agì in obbedienza a Dio poiché era il suo servitore non aveva opinioni personali ma sentiva soltanto che i ribelli avevano peccato contro Dio Spiegò inoltre che l'Eterno avrebbe dato loro la prova di ciò facendo una cosa nuova Verso 30 In questo modo Dio seguì un giudizio supremo onde stabilire l'autorità di Mosè Tre famiglie furono distrutte 250 capi del popolo veneroarsi vivi verso 27 al 35 La via dei ribelli conduce nell'abisso ribellione e morte sono congiunte assieme L'autorità è qualcosa che viene da Dio tutti coloro che offendono l'autorità da lui costituita disprezzano Dio In Mosè troviamo un'autorità delegata che non ha né una sua propria opinione né uno spirito di condanna Intercessione ed espiazione Sebbene l'intera comunità di Israele fosse stata testimone del lavoraggine apertasi nella terra per inghiottire le famiglie ribelli e sebbene tutti fossero fuggiti spaventati il loro non era timore di Dio bensì soltanto paura della punizione Non riuscirono a comprendere Mosè e i loro cuori non furono neanche sfiorati da quanto accaduto al punto che dopo averci pensato in una nottata intera all'indomani si ribellarono anche loro verso 41 Se uno non ha incontrato la benedità di Dio la sua condizione interiore rimane la stessa L'intera comunità mormorò contro Mosè e contro Aronne dichiarando Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno verso 41 Osserviamo ora l'intero episodio di come queste autorità delegate reagirono ad una tale opposizione contro di loro Umanamente parlando Mosè si sarebbe dovuto adirare molto per questo attacco Era chiaro che quanto avvenuto era opera di Dio Perché dunque dovevano mormorare contro di Lui? Perché non avevano mormorato contro Dio invece di rivoltarsi contro la sua autorità delegata? Ma la razione divina si manifestò più prontamente di quella di Mosè e Aronne Ecco, la nuvola ricoprirà tende ed apparve la gloria dell'Eterno verso 42 Dio venne giù a giudicare la comunità e disse a Mosè e Aronne di togliersi di mezzo la radunanza Fu come dire loro La vostra preghiera di ieri fu un errore Oggi voglio distruggere tutto il popolo ribelle Malgrado tutto ciò Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra per la terza volta verso 45 La sensibilità spirituale di Mosè era tanto grande che egli comprese immediatamente che quel problema non poteva essere rivolto con la sola preghiera Il peccato di ieri non era tanto evidente quanto quello di oggi quindi disse subito ad Aronne di prendere il turibulo e di andare in mezzo alla gente a fare le spezioni per loro verso 46 Mosè era indubbiamente dono alla funzione di autorità delegata da Dio sapeva le tragiche conseguenze cui il popolo di Israele poteva andare incontro e sperava che Dio fosse tanto benevole da perdonare ancora Il suo cuore era colmo d'amore e di compassione l'anedito d'uno che conosce veramente Dio Mosè non era sacerdote e quindi chiese ad Aronne di affrettarsi a fare l'espiazione per il popolo Era questa l'intercezione aggiunta all'espiazione La piaga si stava già spargendo fra il popolo Aronne si trovava Ora tra i morti di vivi Fece l'espiazione e la piaga fu arrestata Or quelli che morirono di quella piaga furono 14.700 Verso 49 Se Mosè ed Aronne fossero stati meno svelti ne sarebbero periti certamente molto di più La benedità espiatoria riscontrata in Mosè era sorprendentemente simile a quella del suo signore Amava il popolo di Dio e sa colore responsabilità sia per tutti gli ubbidienti che per i ribelli Uno che pensa solo a se stesso e che spesso si lamenta delle responsabilità che si assume contro gli altri non è adatto a rappresentare l'autorità di Dio Dal suo modo di reagire si vede che tipo di persona si è Molti pensano soltanto a non esporsi e sono estremamente sensibili alle critiche altrui Tutti i loro pensieri sono accentrati sul loro io Mosè però era fedele in tutta la casa di Dio Se la casa di Dio avesse sofferto e l'uomo Mosè ne fosse rimasto soddisfatto egli non sarebbe stato un servo fedele Uno che è tale anche se respinto personalmente e disprezzato porterà volentieri i pesi di molti Gli israeliti si ribellarono contro Mosè eppure egli sopportò le loro manchevolezze Gli si opposero e loro spinsero eppure egli continua ancora ad intercedere per loro Se ci stanno a cuore soltanto i nostri sentimenti non saremo capaci di portare i problemi dei figli di Dio Confessiamo perciò il nostro peccato riconoscendo che siamo troppo piccoli e troppo duri Dio vuole che abbiamo la sua grazia in noi Lasciamo il giudizio a Dio Essere compassionevoli verso gli altri fa parte del carattere di chi è in autorità Grazie 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 Grazie